che ha aperto le danze di Tarik Owens Flaccadori per Conti ancora Edkins, ancora l'intesa tra i due ancora il canestro del suo pubblico quello di Varese Spagnolo, a proposito dei giovani eccolo qui Matteo Spagnolo, tutto il suo talento numero 9 col fallo di Ross bravo a tenere il controllo del club il pallone toccato, non arrisca il tiro Forrai con 4 secondi, deve mettersi in proprio attacca il ferro, appoggia la tabella tutta l'energia, tutto l'orgoglio attacca, Johnson non lo tiene Crawford, poi però lo cancella da dietro quando ormai non se l'aspettava più uno a testa praticamente quarto fallo di Caruso adesso esce, rientra Brown Caruso ha ritoccato praticamente tutti i suoi 8 secondi, può andare a tutto campo la difesa di Brown quasi palla persa di Trento Locke, Graziulis da 3 sulla sirena Andrej Graziulis con questo tiro che adesso rivediamo nel replay Andrej Graziulis situazione particolarissima la palla quasi persa da Trento la difesa di Varese che salta e la tripla di Graziulis da finto pivot